250.000 prodotti con marchio CE contraffatto e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori sono stati sequestrati nel mese di marzo dalla Guardia di Finanza che monitorano costantemente le merci stoccate nel centro ingrosso Cina della zona industriale. I finanzieri hanno intensificato i controlli sequestrando 112.000 paia di occhiali da sole, 120.000 mascherine chirurgiche e 20.000 prodotti high-tech tra cui tastiere, pc e smartwatch per un valore stimato di circa 500.000 euro. Il contrassegno CE che dovrebbe certificare la conformità dei prodotti era stato applicato da enti non accreditati e quindi non riconosciuti dall'Unione Europea. Due cinesi titolari delle ditte che rivendevano i prodotti sono stati denunciati alla procura per il reato di frode. Grazie a tutti.